Siamo qui in conferenza stampa con Nicola Loyodice, attaccante dell'audace Cerignola in vista della trasferta di Nola, una trasferta dove l'audace Cerignola cercherà di dare continuità ai propri risultati, si viene da due successi consecutivi da non sottovalutare naturalmente l'avversario in virtù di quella che è la classifica deficitaria attuale. Sicuramente non sarà una partita facile perché comunque andiamo in un campo ostico e quindi ce la metteremo tutta perché se vogliamo rimanere lì in classifica e agganciare gli altri non possiamo più sbagliare. Ecco, il Nola viene da quattro sconfitte consecutive però ha dato filo da torcere al Picerno in quello che è stato il recupero della ventunesima giornata e mi riferisco a quello di mercoledì. Sicuramente è una squadra giovane, corrono quindi non è facile, andiamo in casa loro, loro si vogliono salvare, sarà una partita tosta però come ho detto prima noi siamo l'audace quindi non dobbiamo avere paura di nessuno, dobbiamo andare là e dobbiamo dettar legge da inizio partita fino alla fine perché ci dobbiamo portare i tre punti a casa. Ecco, un verdetto quello del recupero che ha cambiato la classifica del girone H di Serie D, nonostante tutto l'audace di Serignola è lì, bisogna crederci e andare avanti perché è ancora tutto aperto. Sì, sì, dobbiamo crederci fino alla fine perché il campionato è ancora lungo, sappiamo che comunque il Picerno è un'ottima squadra, il Taranto pure, però anche noi siamo un'ottima squadra, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile perché poi alla fine chi sbaglia meno vince. Dieci centri per te in questa parte di stagione, fino a questo momento, qual è il tuo auspicio personale? Sicuramente i tuoi gol sono stati e serviranno ancora di più nella successiva parte della stagione, a partire da domenica, a cercare di agguantare quanti più risultati utili consecutivi possibili. Sì, sono contento comunque che ho dieci gol, non mi era mai capitato in Serie D di fare dieci gol a undici giornate dalla fine, però il nostro obiettivo e anche il mio è di vincere il campionato, poi se avverranno altri gol benvengano, però il nostro obiettivo, il mio obiettivo è vincere con la madre dell'audacea. Cosa ti senti di dire ai tifosi cerignolani che assieme a voi non stanno mollando, assieme alla società, come dicevi l'obiettivo prefissato dalla famiglia Greco, dal presidente Nicola Greco in primis è quello di vincere questo campionato? La città noi ne siamo grati perché ci sta sempre vicino, ogni domenica, fuori, in casa, lo vedono tutti, ci siedono ovunque, sono spettacolari, devono continuare a crederci come lo stiamo facendo noi, come lo creda la società, quindi tutti uniti dobbiamo cercare di raggiungere l'obiettivo che è importantissimo. Grazie a Nicola Loiodice e in bocca al lupo. Grazie.